dopo la lega argento siamo tornati qua andremo ovviamente a rifare la lega hanno rimesso le casse su brawl io questo non me lo aspettavo è stata una bella sorpresa ovviamente adesso andremo a spacchettare queste cose qua prossima cassa gratuita quando faremo queste cose qua attenzione perché tra 7 gemme possiamo acquistare 20 super casse raga io non voglio dire niente ma se comprassi qualche gemma andiamo a scegliere Larry vediamo se possiamo spaccare qualcuno attenzione perché siamo in forte svantaggio cioè siamo in vantaggio no 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 non la percuno cazzo accontentiamoci così non sa come non mi interessa si disconnettono così a cazzo vabbè attenzione il mister mazza qua che ok ne rimane uno attenzione perché è ricapitato l'evento k o vai che è morto vai che è morto vediamo di vingere adesso questa partita in genere perché con gelindo sono fortissimo due su due eliminati incredibile dove si è ficcato l'altro eccolo lì ma io ho detto gelindo prima volevo dire il jazz vai che lo può uccidere metto l'overdrive faffanculo fa niente fa niente bisogna sacrificare il nostro compagno ogni tanto mitico attenzione un cazzo non ci dovrebbero essere problemi in realtà dai che praticamente abbiamo vinto dai bronzo 2 subito uccideteli uccideteli cazzo ma non si può andate a prendere le gemme andateci andatevi nascondere cazzo che cazzo lo blocchi ma non lo uccidi ma che cazzo è venite qui venite qui venite qui venite qui vieni qua non è possibile non fatevi uccidere non fatevi ciao